Fino da bambino rubavo la borsa, la borsa che aveva un po' di indumenti per giocare così e andavamo a un campetto qui vicino per giocare con gli amici, mentre i miei non volevano perché loro nessuno di famiglia si è mai occupato o gli è mai piaciuto il calcio. Il mio idolo come calciatore è stato Gianni Rivera, grande giocatore degli anni 60-70 del Milan, quindi la mia squadra del cuore da quel momento è diventato il Milan. Non c'è un perché, qui eravamo divisi fra interisti e milanisti, qui nel paese, c'era Mazzola e Rivera, chi era di Mazzola e chi era di Rivera, io mi piaceva Rivera e quindi sono diventato del Milan. Giocavo nel frattempo, avevo iniziato a fare il settore giovanile, stavo giocando in categoria e avevo circa 24-25 anni, così stavo ancora giocando, mi chiama una persona, un amico qui di Badia e mi diceva siamo in difficoltà, abbiamo una squadrina di una ventina di bambini, così se viene a darci la mano e di lì è cominciato, diciamo, questo percorso con la Polisportiva Badia Pozzeveri. Il tau calcio nasce dalla fusione fra l'US Alto Pascio e la Polisportiva Badia Pozzeveri, è nato nel 1992, nel frattempo appunto eravamo già due società che avevamo circa 100-150 bambini, bambini cada una e quindi abbiamo deciso, essendo del solito comune, di fare un'unica società, l'abbiamo chiamata tau calcio perché il tau calcio è il simbolo un pochino del paese di Alto Pascio e per non togliere, cioè per non fare distinzione Badia-Alto Pascio, che insomma è sempre stata un po' di rivalità nel come succede un pochino dappertutto, abbiamo deciso di mettere tau calcio in nome neutro. Il punto di forza, diciamo, è stata la passione di non mollare mai davanti alle difficoltà che in tutti questi anni si sono presentate. Il punto di forza è quello, più il fatto di aver costruito un gruppo, un gruppo di amici che ha passione, ha voglia di stare insieme e di creare qualcosa di utile e di bello per il calcio giovanile. Ma ci ho dedicato gran parte della mia vita nel tau, quindi penso che sia stato un contributo importante. Ma soprattutto devono avere passione e voglia di mettersi in gioco, voglia di migliorare, voglia di divertirsi. Questi sono gli ingredienti giusti, non per il tau, ma in generale per poter fare uno sport di gruppo. In campo conta sia la tecnica che la motivazione. La tecnica è fondamentale perché il gioco del calcio richiede, tutti i giochi richiedono, la tecnica è parte fondamentale e la motivazione anche, la motivazione io le darei al 50%. Ma di crederci di non mollare, di essere, di essere, di non, quando si creano delle difficoltà, di non mollare. Il momento non è dei migliori, chiaramente però sono fiducioso che nell'arco di un paio d'anni si possa tornare alla normalità. Ora è un momento, ma io onestamente ne ho passati in questi anni tantissimi momenti difficili, quindi credo che ci rialzeremo, che riprogrammeremo e saremo più forti di prima. Allora, credo che organizzazione, motivazione e serietà. Allora, l'eccellenza è nata dalla volontà del vicepresidente Manuel Vellutini, che ha questa passione anche per il mondo dei grandi, che gli piacerebbe portare la squadra in una categoria ancora più importante. E quindi da lì abbiamo formato un gruppo con Alessandro Del Carlo, che già faceva parte dello staff, era l'anima anche negli anni precedenti delle squadre divettanti. In più si è aggiunto anche Marco Vellutini, che è stata una sorpresa positiva, un ragazzo che si è fatto valere per capacità anche organizzative e manageriali. In più poi il gruppo è formato anche da Maurizio Dal Porto e Antonio Paolini, che sono due persone con esperienze già nel mondo dei dilettanti, diciamo abbastanza importanti anche in società di serie D e così via. Quindi poi loro, poi i bracci, anche Gianni Cecchini e Mazzoni, sono due ragazzi che sono sempre stati presenti, insieme anche altri, che ora mi posso anche dimenticare. Comunque si è creato un gruppo veramente valido, i risultati non sono mancati, perché la squadra insomma era una squadra che andava amalgamata, però era una squadra con buone qualità. Peccato che sia finito in maniera prematura, perché potevamo fare qualcosa anche in più a quello che ci aspettavamo anche inizialmente. I prossimi obiettivi, secondo me, passano dalla realizzazione di un centro sportivo. Abbiamo iniziato già da un po' di anni a investire sull'impianto, abbiamo un buon impianto, però dobbiamo riuscire anche a completarlo, a metterlo al servizio delle persone, metterlo in condizione che la società ne possa trarre dei benefici. Proprio un centro sportivo. Forza ragazzi, e torneremo più forti di prima, noi non abbiamo mai smesso di lavorare, di programmare, di stare uniti e di crederci. Il momento è difficile, ma lo supereremo tutti insieme.